1 to 1 qui a Pineto in compagnia di Felice Mancini naturalmente il Pineto Calcio ha aderito oggi al progetto ma le due società sono amiche ormai da tanti anni parliamo appunto di questa iniziativa che è molto importante e performante per i bambini Sì innanzitutto ringraziamo il Pineto Calcio che ci ha dato la possibilità di passare una giornata con i loro ragazzi la 1 to 1 è nata 2-3 anni fa facendo un camp estivo e poi da quest'anno abbiamo iniziato a farlo ogni lunedì al centro nostro sportivo Poggio degli Olivi Cosa consiste? Nel curare il gesto tecnico e di cercare di migliorare questi ragazzi senza l'ansia della partita perché è solamente un divertimento e lunedì essendoci noi e non ci preoccupiamo per niente di quello che deve succedere la domenica cerchiamo di farli divertire e basta con questa iniziativa ci siamo messi a disposizione di tutte le società dilettantistiche da Abruzzo e anche di fuori in quanto è libera e aperta a tutti quanti e cerchiamo di far passare una giornata di allenamento non diversa ma non diversa perché facciamo qualcosa di differente però dove i ragazzi si divertono, si allenano e cerchiamo di migliorare il singolo per poi metterlo a disposizione delle loro squadre I bambini soprattutto in tenera età sono veramente fantastici riescono a trasmettere un'energia e una positività in tutto quello che fanno che ti mandano via veramente con il cuore leggero sono veramente contento, un'esperienza importante e bella in una struttura stupenda e anche in una società calcistica storica del calcio abruzzese questo è un'esperienza molto importante in quanto abbiniamo le capacità coordinative, le abilità motore alla gestualità e al gesto tecnico che può essere colpo di testa, il tiro, il passaggio quindi man mano che crescono con le categorie cerchiamo di differenziare le loro predisposizioni quindi c'è chi abbina una capovolta a un colpo di testa oppure una gestualità al volo o un tiro di controbalzo partendo da un'esecuzione di una speed ladder con spostamenti a destra e sinistra o all'indietro o laterale, quindi cercando mai di perdere il riferimento che è la palla Sicuramente è stata una grandissima esperienza per i ragazzi ma anche per noi che siamo stati a stretto contatto con loro i ragazzi pare che si siano divertiti, il numero è stato abbastanza consistente è andato tutto nei minimi dettagli e è andato tutto bene speriamo anche nelle altre occasioni di fare le stesse cose e cerchiamo sempre di migliorarci ringraziamo il Pineto Calcio per la disponibilità e ci rivediamo nelle prossime occasioni una società con la quale abbiamo dei rapporti molto stretti che sfoceranno sicuramente in qualche progetto importante per il futuro perché si tratta di una società tra le più attrezzate, non dico nella sua categoria perché credo che nella sua categoria sarebbe riduttivo io penso che quello che ha il Pineto molte squadre della nostra categoria non ce l'hanno quindi devo fare solo i complimenti alla dirigenza del Pineto perché vede lungo e vede molto più in là rispetto a tanti altri che si occupano solo della parte puramente sportiva e della partita del sabato o della domenica quindi è un qualcosa di importante che stiamo facendo insieme, che stiamo sviluppando insieme e che porterà sicuramente degli ottimi risultati da qui al futuro è uscito veramente una giornata ricca di contenuti, una bellissima esperienza per noi, per la società e soprattutto per i bambini vogliamo continuare su questa strada, faremo altre tappe, prevedono già altri otto appuntamenti il progetto è chiaramente aperto a tutto, oltre che a Friate e anche altre società così come lunedì a Poggio degli Ulivi facciamo sempre una seduta di allenamento sia per i nostri tesserati che per i tesserati di altre società con noi, con la One to One, vi divertite, imparate e crescerete sicuramente sotto il profilo tecnico e non solo insieme alla One to One per crescere bene, insieme e divertirsi Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!